ciao a tutti ragazzi ben ritornati in questo secondo episodio dei misteri delle curiosità di gta4 quest'oggi ci troviamo qui memorizzatevi bene il posto perché volevo farvi vedere questo edificio qui dove se ci fate caso sono presenti vari artwork della serie degli altri insomma capitoli di gta vedete lì c'è l'elicottero che c'è sulla copertina di san andreas sembra qua c'è scritto vice squad la moto rossa della copertina di vice city e poi molto che insomma fa capire molto quello di cui sto parlando è questa donna qui presente sulla copertina di gta vice city o anche sulle schermate di caricamento poi in caso comunque vi piazzerò qualche foto spero che si veda bene comunque e prima di passare al prossimo mistero ragazzi volevo ringraziarvi perché ho visto che il primo episodio è stato apprezzato abbastanza e quindi nulla andiamo subito al secondo mistero eccoci qui siamo arrivati vi faccio vedere dove più precisamente qui perché volevo farvi vedere questo cartello se voi ci fate caso per chi ha studiato un po di tedesco c'è scritto peacewasser perché quella specie di b si legge come una doppia s questo nome questo logo insomma che sarebbe una birra di gta intanto notare la bottiglia fin dove arriva nella bocca della tipa ma vabbè praticamente significa acqua di pipì tradotto in tedesco dal momento che baser significa acqua questo riferimento è presente anche su uno dei manifesti come possiamo vedere dove c'è la ragazza su una bottiglia appunto che se la sta ingoiando quasi inoltre questo questo peacewasser è un riferimento alla birra americana che si chiama bootweiser tipo bootweiser una roba simile ho cercato ho trovato sto nome e ora già che ci siamo vicini vi farò vedere probabilmente uno dei misteri più famosi uno dei misteri insomma easter egg forse bug non so nemmeno come chiamarlo il nostro amico elicottero lì e vi faccio vedere dove allora più precisamente qui e penso che lo conoscerete quasi tutti dai il famosissimo bug barra mister barra easter egg barra non so cosa se mi riesco a mettere bene perché ok dell'altalena ora non so quanti di voi lo conoscano ma penso sia abbastanza famoso voi dovete andare sul insomma il sostegno centrale dell'altalena con la macchina e accelerare verso questo bastone appunto vedete che fa del fumo voi insistete finché non vi spara via magari si muove perché sai c'è una certa fretta io si è non era quello che mi aspettavo aspettate ragazzi ci proviamo dai ti levi dalle palle odio ero entrato dentro sparami via non ci riesco ok 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 diciamo che si è arrabbiata leggermente l'altalena ho tenuto premuto il freno a mano ho mandato su di giri l'auto che poi ha accelerato violentemente e l'altalena si è incazzata mi ha sparato via comunque proviamo a farne un altro perché vorrei vedere se riesce a spararmi via abbastanza lontano perché una gran figata ragazzi voglio farvi vedere ora andiamo da quell'altra parte perché lì c'è la macchina in fiamme distrutta buon dai può andar bene ok strano non ha laggato in questa breve sezione di video buon dai usiamo i trucchi gente chi se ne frega usiamo i trucchi perché dobbiamo andare in un posto qui vicino ci andiamo velocemente in macchina gente e vi do un consiglio se avete gta 5 provate a tornare su gta 4 e vedrete che è impossibile guidare su gta 4 è una cosa terrificante giuro io sono fisso in testa a coda o meglio fisso in testa a coda si si può dire fisso in testa a coda ok siamo arrivati dunque siamo qui un idrante boom ok allora qui c'è un negozio qua che si chiama shirt world significa mondo delle magliette letteralmente significa mondo delle magliette però rockstar game ha voluto fare un gioco di parole se voi togliete la r viene fuori shit world che vuol dire praticamente mondo di merda ecco nulla che altro dire basta andiamo al prossimo mistero abbastanza velocemente perché non so quanto stiamo di registrazione ok eccoci qua arrivati per forse l'ultimo mistero di oggi ci troviamo qui della freccetta arancione come al solito questo ragazzi un mistero un po' più da nerd un mistero un po' più da smanettoni insomma per chi se ne intende perché qui nella centrale di polizia io ora quel poliziotto lì non mi convince con quel mitra io vorrei entrare però non so cosa succede proviamo si oh cazzo oh cazzo 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 me ne sto andando 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 ciao ciao si eh grazie per la macchina forse morirò prima di prendere le auto anzi l'auto non le auto giusto c'ho i trucchi anch'io che fesso cosa che succede a un'ambulanza chi è morto cos'è una sparatoria è rimasto ucciso qualcuno ho un'idea si è l'ambulanza che sposta un elicottero mh davvero ok ragazzi ci troviamo qua della stazione centrale perchè volevo farvi vedere quelle statue lì ehm difatti questo è il il tributo tra virgolette di rockstar game a euforia penso sia la pronuncia giusta e praticamente euforia non è altro che il motore grafico di gta4 no scusate motore grafico motore fisico di gta4 ehm poi vabbè come al solito vi spammerò la bella immagine ehm di euforia così fate un attimino il confronto ehm comunque nulla ragazzi ora eh vabbè gente è lag purtroppo il mio computer non ce la fa carica in ritardo ehm guardate boh vabbè dai perdonate il mio pc povero ehm nulla ragazzi non so quanto sia durato sto episodio al limite ne facciamo un altro comunque volevo dirvi un'altra cosa che poi magari ripeterò che nel prossimo episodio ehm ehm no nulla ragazzi con il prossimo episodio dai ehm ci vediamo al prossimo episodio appunto che dovrebbe essere in settimana spero ehm nulla qui da gta4 è tutto bella